Estate sempre più segnata dal maltempo ed è sempre più grave la situazione nel Comasco dove le violente piogge degli ultimi giorni hanno causato l'esondazione di quasi tutti i torrenti che scendono verso il lago, provocando ingenti danni in tanti centri abitati e 60 interventi dei vigili del fuoco. La strada statale regina sulla sponda occidentale del lago è stata interrotta in più punti, in particolare all'aglio tra Cernobbio e Moltrasio dove la furia delle acque ha divelto parte del lungo lago ma anche ad Argenio, colonno e brienno dove 50 persone sono isolate nelle loro case. La situazione è drammatica proprio a Cernobbio dove i residenti tentano di ripulire dall'acqua e dai detriti le strade e gli edifici come questa RSA allagata mentre il locale torrente breggia è sopra il livello di guardia. Anche la statale per Bellagio è interrotta subito dopo Como. Tutto il lago è invaso dai detriti e diversi smottamenti si stanno verificando anche lungo la sponda orientale dove alle Zeno alcune persone sono state evacuate in via precauzionale. Il maltempo sta colpendo duramente però anche l'Emilia. Queste immagini documentano una tromba d'aria e una violenta grandinata con frammenti di ghiaccio grandi come palle da tennis che ha provocato gravissimi danni tra Parma e Piacenza con molte auto danneggiate e cedimenti strutturali in edifici sportivi e industriali della zona mentre a Rozzano alla periferia di Milano si contano i danni causati ieri dal crollo di una gru su un palazzo sempre per il maltempo e per fortuna senza conseguenze per le persone. Diametralmente opposta la situazione al sud dove regna invece il caldo torrido in questa strana estate che ha diviso in due il paese.